Numerose le notizie di cronaca che giungono da Niscemi, un giovane Giuseppe Militello è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Gela per spazio di sostanze stupefacenti. Infatti è stato trovato con circa 200 grammi di ascisce nella sua campagna. Il fatto è avvenuto durante un servizio di controllo per il contrasto al mercato illecito degli stupefacenti. Il giovane che apparentemente era dedito alle attività agricole nel terreno di famiglia riceveva altri giovani ben vestiti. Nel suo campo e dunque i poliziotti insospettiti hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione di campagna in quella di città dove sono stati trovati in oltre altri 10 grammi di sostanza. E per queste ragioni i poliziotti hanno proceduto all'arresto. Sempre a Niscemi alcuni minorenni sono stati denunciati perché si aggiravano nottetempo incontra da Ulmo con in mano una tenaglia che a loro dire sarebbe servita a tagliare la recinzione della base americana che si trova nella zona. Ancora reati ambientali che riguardano il trasporto di materiale inquinante. Infatti un uomo niscemese è stato denunciato per il illecito smaltimento di rifiuti pericolosi, circa 300 kg. È stato fermato dai poliziotti mentre si trovava nella periferia della città alla Santissima Madonna del Bosco, nelle campagne dove voleva riversare il materiale. Il veicolo sul quale si trovava il materiale era già a suo tempo stato sottoposto a sequestro, infatti di proprietà del figlio che è stato a sua volta denunciato anche per violazione delle prescrizioni alla sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Infine a Caltanissette è stato arrestato dai poliziotti della sezione volanti della Questura, Armando Salvatore Dall'Asta, Nisseno, classe 58, con precedenti per porta abusivo d'armi, ricettazione e diverse segnalazioni per furto aggravato, poiché si è reso responsabile del reato di furto aggravato e minacce aggravate. Grazie a tutti.